Ciao a tutti e bentornati al MatSegnale! Oggi siamo qua in versione Breaking News perché meno di 24 ore fa, rispetto a quando stiamo girando questo video, sono state assegnate le medaglie Fields del 2022. La medaglia Fields è probabilmente il più alto riconoscimento per un matematico è quello che spesso viene paragonato un po' al Nobel per la matematica. Viene assegnato ogni 4 anni e solo a dei matematici sotto i 40 anni. Per importanti lavori nel proprio campo di ricerca o in generale per aver permesso un grande sviluppo in qualche ramo della matematica. Pensate che nel 2018, ultima volta in cui è stata assegnata la medaglia Fields, tra i vincitori c'era anche un italiano, Alessio Figalli. Ovviamente non è pensabile riuscire a portarvi i contenuti delle medaglie Fields di quest'anno perché sono lavori molto tecnici, ma cercando di rilaborare e basandoci su questi articoli che vi lasciamo in descrizione reperibili sul sito del DCM, abbiamo cercato di raccontarvi un po' il perché della scelta delle medaglie Fields di quest'anno. Pronti? Cominciamo! Abbiamo 4 medaglie Fields da presentarvi e ovviamente sbaglierò la pronuncia di tutte e quattro. La prima persona che intendiamo presentarvi è Hugo Duminil-Copen, nato nel 1985 e premiato per i suoi apporti alla teoria della probabilità applicata ai problemi di transizione di fase in dimensione 3 e 4. Il concetto di transizione di fase è legato a dei fenomeni fisici dirompenti. Non è un caso che in realtà il termine ricordi un po' quando anche l'acqua passa da un suo stato all'altro. Ad esempio nel modello di Ising, che è quello che è stato studiato da Duminil-Copen, si può vedere, ad esempio in questa simulazione, come il nostro sistema passi da uno stato di quiete a uno stato più caotico. Ecco, il momento in mezzo è il momento della transizione di fase. In qualche modo ci sono quindi questi sistemi in fisica-matematica che dipendono da un parametro che viene chiamato temperatura e che passano appunto da uno stato in generale di quiete a uno stato caotico noi siamo interessati al momento della transizione. Concludiamo la presentazione con queste parole di Martin Heerer che in qualche modo ricordano una parola chiave, eleganza. Anche il finale in cui si parla di questo libro è in qualche modo un riconoscimento a Paul Erdos in quale sosteneva che ci fosse un libro con all'interno tutte le dimostrazioni più belle della matematica e che in qualche modo ogni tanto i matematici riuscissero a scorgerne qualche pagina e quindi quando viene fatta una dimostrazione particolarmente elegante si usa dire che questa dimostrazione è tratta direttamente dal libro. Passiamo alla seconda medaglia Fields che vi presentiamo che è Jun Hu, nato nel 1983 ed è stato premiato per i suoi contributi alla geometria combinatorica. Per darvi un'idea possiamo pensare intanto al concetto di geometria come magari ce l'avete in testa come lo studio di alcune entità punti, piani, rette, un po' nello standard di Euclide o anche come i luoghi di zeri, per esempio una parabola y uguale a x quadro o una sfera x quadro più y quadro più z quadro minore o uguale a 1 ma possiamo cercare di lavorare anche dal punto di vista combinatorico per esempio cercando di imparare a contare quanti punti in intersezione ci sono tra queste entità o ad esempio in quanti parti viene diviso il piano da un certo numero di rette. Vi ricordate per caso questo video? Ecco quello, era un esempio anche se abbastanza banale. Quello che ha fatto Jun Hu è stato prendere diverse idee che arrivano dal mondo geometrico, in particolare della teoria di Hodge e applicarli al mondo della combinatorica. Non solo, ha risolto diverse concetture ve ne citiamo tre, tra cui quella di Dowling Wilson per i reticoli geometrici quella di Heron, Rota, Welsh per quanto riguarda i matroidi e la concettura forte di Mason. Abbiamo scelto queste poche parole di Jill Kalai in riferimento a una delle concetture dimostrate da Jun Hu per evidenziarvi la parola chiave di questa seconda medaglia Philz a parer nostro, che è reciprocità. Questo sapersi parlare tra due sfere della matematica teoricamente non così vicine. La terza persona che vi presentiamo è James Maynard nato nel 1987 e premiato per i suoi contributi nella teoria analitica dei numeri e in particolare per aver aiutato a comprendere meglio la struttura dell'insieme dei numeri primi. L'idea di base per intenderci è il buon vecchio crivello di Eratostene ve lo ricordate? Elencate tutti i numeri interi a partire dal 2 in realtà in avanti create una tabellina di questo tipo dopodiché segnate il 2 e cominciate a cancellare tutti i multipli di 2 poi segnate il primo numero che non avete cancellato che è il 3 in questo caso e cancellate tutti i multipli di 3 che ancora non avete cancellato. Adesso andate avanti così chiaramente il 4 è stato cancellato quindi non lo considerate e considerate il 5 e cancellate tutti i multipli di 5 e così via. Alla fine quello che vi rimarrà sarà l'insieme dei numeri primi. Bene, si vedono già alcuni pattern, alcune strutture ma quello di cui si è occupato James Maynard è un concetto più astratto di questo crivello per non risultare offensibili nei confronti del lavoro di una medaglia Fields perché detto così sembra ovviamente molto semplici anche se dopo ci addentriamo un po' di più vi lasciamo questo disclaimer molto carino che è riportato anche nell'articolo che vi abbiamo linkato ovvero che in effetti parlare del crivello di Eratostene per discutere il lavoro che è stato fatto da James Maynard è un po' come parlare di un aeroplano di carta quando dobbiamo usare ed escrivere un aeroplano di linea per intenderci però rende l'idea e in qualche modo fa passare l'eleganza la bellezza che sta sempre sotto i risultati che hanno a che fare con i numeri primi tuttavia ragionare su questi crivelli un po' più astratti ha portato tre matematici Goldstone, Pins e Hildirim a questo risultato molto importante cioè che se fissate un qualsiasi numero c maggiore di 0 allora esistono infinite coppie di numeri primi con questa proprietà cioè un numero primo è compreso tra il numero primo precedente e il numero primo precedente più la costante che avete scelto per il logaritmo naturale di quel numero primo e studiando questo e qua stiamo sostanzialmente citando quello che dice James Maynard studiando questo crivello quindi cercando di capire come i tre avessero fatto raggiungere questo obiettivo Maynard si è accorto che questo risultato poteva essere migliorato ed è proprio qui che vogliamo mettere il nostro accento e scegliere la parola migliorare, quindi riuscire a prendere un risultato e cercare di portarlo a un livello successivo portarlo a un livello migliore chiudiamo la presentazione di Cassaterza Medaglia Fields con un corollario se vogliamo di uno dei suoi risultati giusto per darvi un'idea come al solito di quanto siano belli e eleganti i risultati sui numeri primi quello che è riuscito a dimostrare James Maynard è che esistono infiniti numeri primi in cui non compare al suo interno la cifra 7 la quarta ed ultima Medaglia Fields che vi presentiamo è Marina Vyazovska la quale ha ricevuto il premio per il suo lavoro alla teoria matematica sull'impacchettamento di sfere ovvero quella teoria che si occupa di trovare il modo di disporre delle sfere identiche in modo che non si sovrappongano e che occupino il minor spazio possibile occhio che siamo tra matematici quindi quando si parla di sfere non si parla necessariamente della sfera tridimensionale ma si può parlare della sfera in 2D che di fatto è la circonferenza o il cerchio se la considerate piena o in 1D o in numeri di dimensioni ancora maggiori può sembrare banale come cosa agli occhi di una persona che non è all'interno di questo tipo di lavori ma per prima cosa notate la grossa differenza tra ipotizzare che una certa disposizione sia quella ottimale e dimostrare che effettivamente è così cioè che ha tutte le possibili disposizioni quella è quella migliore pensate che prima del lavoro di Marina Vyazovska era conosciuta la soluzione solo per dimensioni 1, 2 e 3 i suoi lavori hanno permesso di risolvere questo problema in dimensioni 8 e 24 ma occhio non pensate che questa cosa sia la classica cosa stratta da matematici che non ha nessuna attinenza con la realtà no fermi perché ci sono molti problemi ad esempio relativi agli algoritmi di correzione di errori nelle trasmissioni che si basano proprio sull'impacchettamento di sfere in dimensione maggiore di 3 è sempre bello vedere come ci sia questo ponte tra la realtà e quella che è la matematica che normalmente viene definita astratta o come se fosse un po' fine a se stessa per darvi un'idea dell'importanza e della difficoltà del lavoro vi lasciamo con due frasi la prima è di Harry Conn che ci dà un'idea dell'importanza oltre che della bellezza del lavoro appena fatto la seconda di Thomas Hales cita forse un mostro sacro della matematica come necessario per arrivare a un lavoro del genere e quindi forse più che una parola che racchiuda questo lavoro possiamo in qualche modo dire una frase cioè che anche questi mostri sacri della matematica che sono sempre visti come inarrivabili come ok ci sono stati una volta non ci saranno mai più forse non è poi così vero forse ancora oggi abbiamo delle persone che riescono a fare lo stesso abbiamo concluso la presentazione delle 4 medaglie Fields di quest'anno come detto purtroppo non potevamo entrare in grossi dettagli ma speriamo di essere riusciti a darvi almeno un'idea del lavoro e degli ambiti di queste 4 persone come detto se volete dettagli maggiori in descrizione vi lasciamo tutto il necessario per poter approfondire come al solito vi chiediamo se volete supportare il matsegnale di mettere un like a questo video se vi è piaciuto di condividerlo con le persone che pensate possano essere interessate iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e attivate le notifiche in modo da non perdervi i prossimi video del matsegnale e se ritenete di poterci offrire un caffè virtuale ricordatevi che YouTube ha attivato la possibilità di farlo tramite il tasto super grazie anche per oggi però da Davide, Riccardo e il matsegnale è tutto ciao 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 ciao